ciao eccoci direi all'ultima puntata di questa di questo viaggio in punta di piedi nella casa di edward back come se fossimo stati un po nel salotto nel salotto dove c'è la sua macchina da scrivere tutte le sue erbe per parlare appunto di questo viaggio che questo ma fatto in questo in questa sua vita no qui siamo gli ultimi mesi e abbiamo le ultime lettere e andiamo avanti quindi con questa lettera del 26 ottobre del 1936 una lettera che lui scrive al al suo amico victor bull e dice caro vic penso che adesso hai visto ogni fase di questo lavoro scrive lavoro con la maiuscola no quindi questa missione che lui ha sentito quest'ultimo episodio del dottor max wolf potrebbe essere benvenuto non si capisce di che cosa parli comunque è una prova del valore del nostro lavoro quando cause materiali intervengono per distorcerlo poiché la distorsione è un'arma molto più seria di un tentativo di distruzione ecco capiamo che cosa significa ora no è un po quello che è vissuto tutto il sistema floreale soprattutto i fiori di bacca quando sono stati demonizzati e dice che l'arma più potente per affossare un lavoro non è tanto la distruzione non è farci la guerra ma infangarlo distorcerlo il genere umano ha voluto la libera volontà così che dio gli ha garantito per cui gli uomini devono avere sempre una scelta non appena un insegnante ha donato il suo lavoro al mondo deve sorgere una versione distorta dallo stesso così è successo anche da parte delle persone più umili come noi che abbiamo dedicato la nostra opera al bene dei nostri fratelli e anche il più elevato di tutti la dignità divinità del cristo la distorsione deve sorgere affinché la gente possa scegliere tra loro e metalli di derivazione e quindi cosa dice ok è normale no che quando uno compie un lavoro poi ci sia qualcun altro che lo infangherà lo criticherà ma questo per dare appunto quella possibilità di scelta che l'essere umano che chiunque deve appunto agire il proprio libero arbitrio quindi dal momento in cui io ti metto una scelta poi sarà stare a te no saper seguire quello che sentirai giusto per te e dice ed è giusto che anche sul nostro lavoro ci sia appunto chi lo criticherà chi perché l'essere umano e i nostri fratelli come dice lui devono avere la possibilità di scegliere il nostro lavoro è aderire fermamente alla semplicità e purezza di questo metodo di guarigione e quando la prossima edizione dei 12 guaritori diventerà necessaria bisognerà che ci sia un'introduzione più lunga nella quale sosterremo fermamente l'innoquità la semplicità e miracolosi poteri di questa guarigione dei rimedi che ci sono stati rivelati tramite una fonte più grande del nostro intelletto adesso sento caro fratello che mentre per me è sempre più necessario entrare in temporanea solitudine e qui siamo proprio lui sta sentendo che ormai ha bisogno di stare con se stesso no ci stiamo avvicinando proprio al momento in cui muore tu hai l'intera situazione in mano e puoi far fronte a tutto ciò che riguarda i pazienti o l'amministrazione di questo lavoro di guarigione e infatti tu sai che per gente come noi che ha assaporato la gloria dell'autosacrificio e dell'aiuto verso i nostri fratelli qui è stato donato un gioiello di tale splendore nulla può essere una distrazione dal cammino dell'amore e dal dovere dimostrare al mondo il lustro di tale gioiello puro e disadorno in queste ultime righe quando lui dice ok per me io sento che ho bisogno di stare un po di ritirarmi nella mia solitudine si deve preparare al passaggio no e dice ok pensaci tu hai tutto quello che serve per amministrare però ricordati che tutto quel nostro sacrificio tutto il nostro lavoro e dimostrarlo al mondo dimostrarlo ai nostri fratelli ed è un gioiello talmente puro semplice e pulito che non si deve distrarre dal cammino dell'amore che cosa significa che che fiori che questo strumento dei fiori che edward trova e che porta nel mondo dice non devono distrarsi devono essere portati con amore devono essere utilizzati con amore e devono essere mostrati al mondo senza puri così come sono senza addornarli troppo di artefici perché sono loro nella semplicità a parlare e a mostrare il cammino a lavorare in sinergia con le vibrazioni di di noi esseri umani ma tutto ciò che vita perché comunque i fiori vengono utilizzati anche per le piante per gli animali segue una lettera sempre del 26 ottobre del 1936 invece ai colleghi e questa lettera sempre dal montvernon dove da software dove ha la sua casetta e dice cari amici sarebbe bellissimo formare una piccola fratellanza senza gerarchie né uffici in cui nessuno sia superiore o inferiore a qualcun altro dedicata ai seguenti principi primo c'è stato rivelato un sistema di guarigione finora ignoto a memoria d'uomo oggi con la semplicità dei rimedi alboristici possiamo metterci in viaggio con la certezza l'assoluta certezza del loro potere per vincere la malattia 2 non critichiamo né condanniamo mai i pensieri l'opinione le idee altrui sempre memory che l'umanità intera è figlia di dio e che ognuno cerca suo modo di di trovare la gloria del suo padre ci avviamo anche come antichi cavalieri a distruggere il drago della paura sapendo che non potremo mai avere parole di sconforto ma che possiamo portare speranza sì e soprattutto certezza a coloro che soffrono scusate 3 non ci faremo mai distrarre dalle lodi o dal successo che incontreremo nella nostra missione poiché sappiamo di non essere altro che messaggeri del grande potere 4 man mano che ci guadagneremo la confidenza di coloro che ci circondano proclameremo loro che crediamo di essere agenti divini inviati per soccorrerli nel bisogno 5 quando le persone guariranno diremo loro che le erbe del campo che le stanno curando sono il dono della natura che è il dono di dio così le riporteremo alla fede nell'amore nella misericordia nella dolce compassione e nell'onipotente forza dell'altissimo e qui da getta le basi perché vuole aiutare quindi i suoi colleghi i suoi amici vuole aiutare le persone grazie a questo strumento di ricordarsi tutte queste cose quando parla di sentirsi come agenti divini è un po che tutti quando abbiamo fatto altre letture ci diceva che ognuno di noi può esserlo ognuno di noi è un canale perché ognuno di noi può aiutare qualcosa qualcuno ognuno di noi può lasciare il mondo un po più bello di come l'ha trovato perché in ognuno di noi esiste l'amore per qualcosa e quindi per l'arte per le persone per gli animali per la natura e quindi di fare del nostro meglio sempre però ricordandoci anche cosa dice di non farci distrarre dalle lodie dal successo di ricordare che se qualcuno ci critica è comunque di accogliere anche le idee diverse e di ricordarci che siamo tutti fratelli quindi di utilizzare questo strumento di portarlo avanti sempre con grande amore misericordia e compassione che significa non il compatimento ma mettermi nei tuoi panni no poi c'è l'ultima lettera e quando la leggo mi commuovo sempre tanto che è l'ultima lettera che lui scrive a Nora Wick appunto a Vittor Bullen e il primo novembre del 1936 dove scrive miei adorabili amici vi sono momenti come questo in cui sto aspettando una chiamata per un luogo che non conosco ecco lui qua sente che ormai sta iniziando il suo passaggio ma se quella chiamata arrivasse cosa che potrebbe avvenire in qualsiasi momento vi imploro voi tre di portare avanti il meraviglioso lavoro che abbiamo cominciato un lavoro che può privare la malattia dei suoi poteri un lavoro che può rendere gli uomini liberi ciò che ho cercato di scrivere dovrebbe essere aggiunto alla prossima edizione dei 12 guaritori è qua terminano lettere e segue un appello ai suoi colleghi della professione medica dove dice dopo moltissimi anni di ricerca ho trovato che certe erbe hanno meravigliose proprietà di guarigione e che con il loro aiuto sono ora curabili un ampio numero di casi che noi potremmo solo pagliare con la cura ortodossa inoltre la malattia che sta per arrivare può essere curata e prevenuta nello stadio in cui le persone dicono non è abbastanza malato da rivolgersi a un dottore ma quando guadagniamo la fiducia di quelli intorno a noi diciamo loro che la malattia dovrebbe essere affrontata proprio nei suoi stadi iniziali inoltre quando possiamo spieghiamo loro che nei casi più ostinati e cronici vale la pena perseverare con la cura allora proprio in questi casi il nostro lavoro sarà ampiamente diffuso perché otterremo che un notevole numero di persone venga da noi giorni settimane o mesi prima di aver diversamente reequilibrato la loro salute in secondo luogo i casi cronici non ci chiameranno solo perché desiderano sollievo dal dolore dallo sconforto ma si rivolgeranno a noi per continuare con il loro caso nella speranza di giungere a una cura le erbe manzionate possono essere usate congiuntamente con qualsiasi cura ortodossa o in aggiunta a ogni prescrizione e accelereranno e aiuteranno la cura a essere di maggior successo in tutti i tipi di casi acuti o cronici è un periodo in cui la medicina ortodossa in questo paese non sta lottando appieno contro una parte della malattia ed è un periodo per riguadagnare la fiducia delle persone e giustificare la nostra nobile chiamata le erbe sono semplici da capire per ogni studente della natura umana e una delle loro proprietà è che esse ci aiutano a prevenire l'attacco della malattia organica nel momento in cui il paziente è in quello stato funzionale che tanto spesso precede sia le malattie acute sia quelle croniche ecco in questo appello che cosa dice dice di unire la malattia questa cura con tutte le cure ortodosse che non e sarebbe proprio utile no l'approccio floriterapico ha unito a qualsiasi altra cura soprattutto per riequilibrare il sistema emozionale che è quello che prepara il terreno poi ai vari sintomi alle varie patologie e che di continuare con anche una volta guariti di continuare appunto con i fiori proprio per fare cosa per mantenere questo equilibrio e per volgere la persona verso la propria felicità il 27 novembre del 1936 quindi la lettera la scrive il primo novembre il 27 novembre del 1936 edward back muore muore nel suo letto di olmo fabbricato da lui stesso nella sua nel suo stesso cottage di montvernona software pensate a questo uomo che lascia questo questa dimensione su un letto di olmo ha portato termine il suo compito quando gli avevano appunto diagnosticato pochi mesi di vita in realtà finché non ha finito il suo il suo gruppo numerico di fiori e la vita l'ha tenuto qui e l'ultimo fiore che lui scopre è proprio cherry plan e cherry plan ci parla di paura di perdere di controllo di padronanza di se stessi la paura di impazzire e mentre più che mai era necessario la paura sarà l'emozione che avrà vissuto in quel periodo in quel momento no della vita in cui sente di fare questo passaggio e cherry plan dona che cosa dona la capacità di lasciare andare di della fiducia dell'abbandono della padronanza di se stessi ma soprattutto che non c'è più bisogno di tenere sotto controllo tutto quindi veramente un atto di fede di fiducia verso tutto ciò che è vita e quindi anche il passaggio della morte non è nient'altro che l'aspetto della vita no un altro in una si esce da un ciclo e si entra in un altro e fa questo passaggio dopo proprio che ha l'ultimo fiore proprio questo quello che era necessario a edo per fare questo passaggio e lo compie sul suo letto di olmo dove un'energia di sostegno di compimento e di senso di responsabilità è giunto a termine no e giunge a termine anche il nostro viaggio in questo salotto dove oggi mi sono un po' commossa e ma è sempre così quando arrivo in questo periodo di della che leggo queste lettere spero che vi sia piaciuto che vi sia che vi sia anche stato utile che vi sia stato qualche passaggio magari che vi abbia illuminato o acceso qualche riflettore dentro fuori di voi come per me e vi auguro un buon ascolto e quando volete riascoltare le rubriche andate nel sito florino e troverete nelle rubriche tutti i video un bacio e grazie di avermi ascoltata